Il nido di infanzia e le marmotte della Rocca è collocato all'interno del polo scolastico di Sestola, adiacente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alle scuole medie. La gestione di Società Dolce del Nido è in raccordo con l'amministrazione comunale. Gli spazi del nido sono organizzati in base alle esigenze dei bambini, con l'obiettivo di stimolare e di sviluppare la loro autonomia e la loro crescita. Il nido, in sostegno alle esigenze delle famiglie, propone alcuni servizi integrativi, quali ad esempio giochi in città, con la proposta di aperture straordinarie nei periodi di tradizionale chiusura delle scuole. Il nido si apre alle famiglie anche in altre occasioni, soprattutto quelle un po' più speciali, come ad esempio laboratori e feste. Grazie. Grazie. Grazie.